La votazione, tutto il resto e gli ospiti a più tardi. Di nuovo in diretta e siamo alla fase finale di questa prima puntata del National Festival Filodoro. Allora un tocco di internazionale, a questo punto abbiamo il primo ospite che viene dalla Bulgaria, Ann Bijopa. Eccola qua. Ciao. Allora, non è molto facile pronunciare il tuo nome, comunque parli bene italiano un po'? Il mio nome è Ani Verbanova. Ecco, allora me l'hanno scritto male. Senti, tu vieni dalla Bulgaria e fai naturalmente il giro del mondo con queste tue canzoni. Io lavoro qui, poi prendiamo parte. Adesso lavori qua, però venivi dalla Bulgaria, hai fatto diverse serate in locali di tante città d'Europa e poi sei arrivata a Prata e lavori in un piano bar. Puoi dire anche il nome? Anche musicista. Sì, vuoi dire anche il nome del piano bar? Bimbos. Bimbos, benissimo. Adesso tu ci farai ascoltare una canzone bulgara o italiana? No, buona, italiana. Italiana. Il titolo di questa canzone? Almeno tu nell'universo. Almeno tu nell'universo. Un applauso. Grazie. 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 Ciao. Ciao. No, non c'è? Non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero e che mi avrai davvero di più, di più. Di più. Sai, la tazza è sola, come pure lei si consola Non fa sì che la mia mente si perde in cosa pura E in paura, inutile manca e poi per niente E tu, tu che sei diverso, almeno tu nell'universo Un punto sei che non rosa mai intorno a me Un sole che splende per me soltanto come un diamante E in mezzo corre giù, tu che sei diverso, almeno tu nell'universo Bravissima, bravissima, ti chiamo Anri, spagno Ani Allora Ani, abbiamo qua i fiori, Vincenzo De Caro della Scala Benzano Record Che ti consegna i fiori e una coppa per ricordo di questa nostra manifestazione Con l'ultimo applauso del pubblico, eccolo qua Ani Ciao, ciao E adesso abbiamo l'ultima cantante Squeak da 500 grammi